Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Kate e il principe William stanno facendo del loro meglio per proteggere la privacy della loro famiglia in questi tempi in cui tutti sono alla ricerca dell'ultima notizia. La salute della principessa del Galles è un argomento delicato, e le informazioni a riguardo sono davvero scarse. Tuttavia, il pubblico in Inghilterra è visibilmente ansioso e speranzoso di ricevere presto notizie rassicuranti. La situazione si complica con le dichiarazioni di Amia Arrieta, la stilista incaricata di vestire i piccoli principi George, Charlotte e Lewis. Più Recentemente, Amia ha condiviso dettagli piuttosto allarmanti sulla vita quotidiana del futuro re e della futura regina, sottolineando quanto sia complicata e difficile. Questa fase critica sembra legata alla battaglia di Kate contro il cancro. La stilista spagnola, che ha stretti legami con la coppia reale, ha rivelato che stanno attraversando un inferno, riferendosi alle difficoltà legate al trattamento di chemioterapia. La presenza del tumore è stata confermata solo dopo un intervento chirurgico all'addome, inizialmente eseguito per motivi non chiari, e dopo aver escluso inizialmente la presenza del cancro, ulteriori test hanno purtroppo confermato il contrario. Nonostante la gravità della situazione, Amia Arrieta spera di vedere presto William e Kate insieme in occasioni pubbliche, ma si è trattenuta dal fare commenti troppo ottimistici. Nel frattempo, il principe del Galles e sua moglie hanno chiesto esplicitamente di rispettare la loro privacy. Stiamo bene, le cose vanno bene ha affermato il principe William durante la sua ultima apparizione pubblica.